Buongiorno, Alice. Come stai? Sto bene. Alice, devi partecipare alla sfida. Non fai più nulla che possa metterti a rischio. E questa è già una cosa molto importante. 3, 2, 1, go! I'm back! Ciao, ragazzi. La voglia di farsi notare è normale a nostra età. I tuoi amici sui social poi dicono che quello che stai facendo è una roba figa. Quello che è successo è terribile. È il momento in cui bisogna pensare a te. Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto...